Ciao a tutti i big family, volevo dirvi che mi inserisco anche io in questa bellissima iniziativa dei ragazzi di Newtopia e con l'appoggio ovviamente della mia casa discografica alla Sony devolveremo il 100% del ricavato del mio ultimo singolo Vivere a colori dei prossimi tre mesi per la ricostruzione della scuola elementare e dell'asilo lì ad Amatrice. Come dico io, una mano lava l'altra, tutte e due lavano il viso quindi a parte le grandi donazioni che so che sicuramente avrete fatto e abbiamo ancora bisogno tutti quanti di voi e soprattutto invito i miei colleghi a fare anche loro questo gesto perché la musica fa anche questo, la musica abbraccia anche in questo senso. Io ho preparato questa carta con tutte le credenziali per una donazione e grazie a tutti, ce la faremo. Ciao!